Massimiliano Manfroni, assessore ai lavori pubblici del Comune di San Giustino, una conferenza stampa indetta per fare il punto a poco più di un anno di distanza da quello che è stata l'emergenza, ma il tempo che ha colpito tutta l'Alta Valle del Tevere. Sì, diciamo che con questa conferenza stampa noi volevamo fare come amministrazione il punto della situazione delle cose fatte e chiarire un po' quelle che sono le questioni che sono sorte dopo il 5 marzo, come dire, dopo la gestione dell'emergenza. Innanzitutto il 5 marzo per il Comune di San Giustino, ma come per tutta l'Alta Valle del Tevere, è stato un evento in cui ci ha colpito fortemente il nostro Comune. Vi ripetevo in conferenza stampa che solo nel nostro patrimonio abbiamo avuto 34 beni immobili del nostro patrimonio colpiti, si va dal palasporto alle scuole a tutte le nostre dotazioni, quindi c'è stato da subito un intervento emergenziale proprio per ripristinare la normalità di questi luoghi. Ma nel corso del tempo e nel corso dell'anno 2015 c'è stato tutta una serie di lavori fatti al di fuori dell'emergenza, perché ricordo che il nostro Comune non è stato riconosciuto lo stato d'emergenza, la nostra regione non lo è stato riconosciuto. E quindi abbiamo cercato di portare avanti con le nostre risorse, con i tempi della normalità, dell'ordinaria amministrazione, tutta la questione del ripristino dei luoghi. Soprattutto in questo caso, come le ultime vicende segnalano, il parco Roccolo, l'isola ecologica o altre situazioni che da subito non erano state ripristinate. Per cui volevamo dare un'informazione corretta su questo e ci teniamo a far capire che come Comune ci siamo presi a responsabilità della nostra parte, ma in questo anno, non avendo ricevuto nessun tipo di aiuto, volevamo fare anche una richiesta per cercare di segnalare questa situazione. Quindi vi siete giustamente rimboccati le maniche da soli, come si suol dire, ma avete raggiunto l'obiettivo? Sì, un primo obiettivo è stato raggiunto. A noi nel nostro Comune, nel nostro territorio, cioè nella nostra mentalità, è stata quella di rimboccarsi subito le maniche per dare una risposta ai cittadini. È ovvio, il 5 marzo è stato un evento calamitoso e importante, che ha colpito solo la regione toscana, ha avuto il riconoscimento di milioni e milioni di danni. Noi, essendo al confine, siamo stati colpiti in maniera importante. Anche noi non potevamo solo far fronte da soli a questo evento. Quindi ci stiamo muovendo ancora, stiamo riprogrammando nel prossimo bilancio gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino totale di quelli che sono i danni ante 5 marzo, ma è evidente che lo abbiamo fatto in questo caso in autonomia, come dire. Il progetto della conferenza stampa è anche i prossimi interventi. Cosa ci può anticipare su quello che farete nei prossimi mesi? Allora, adesso abbiamo dovuto riprogettare tutti quelli che sono gli interventi. Ci siamo partiti sempre con la progettazione per quanto riguarda il palasporto e il rifacimento del tetto, il parco roccolo per quanto riguarda la pineta, con gli interventi di piantumazione. Tra l'altro è stata anche l'occasione per aprire un rapporto con l'agenzia forestale, attraverso la quale farà la progettazione e ci affideremo anche per un nuovo progetto per la ripiantumazione. Quindi c'è tutto un inter che è partito sempre di progettazione. E' logico, i cittadini, questa è la programmazione dei comuni sempre più difficile, è sempre più complicato. I cittadini non vedranno risposte per il domani, ma piano piano nel tempo contiamo di recuperare la situazione. Paolo Fratini, sindaco di San Giustino, possiamo dire che il 5 marzo 2015 ha cambiato un po' la storia recente di San Giustino e non solo. Ad un anno e poco più di distanza avete fatto un po' il punto della situazione su quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti da quel terribile giorno. Sì, fortunatamente è un evento straordinario, non aveva mai riguardato il Comune di San Giustino, un evento calamitoso, straordinario come questo. Ci siamo trovati come amministrazione a gestirlo, l'abbiamo fatto se non solo con le nostre risorse, con le nostre forze, se non nell'immediata emergenza, insomma grazie al Corpo dei Vigili del Fuoco e all'Agenzia regionale per la forestazione abbiamo fatto alcuni interventi. Ora chiaramente bisogna invece mettere in campo tutta una serie di interventi programmati nel tempo per cercare di risolvere quelli che sono i problemi soprattutto delle nostre strutture. Considerate che circa più di 30 strutture sono state interessate da danneggiamenti, quindi anche la nostra scelta, le nostre programmazioni sono un po' dettate anche un po' dall'emergenza e quindi in questi anni andremo piano piano a programmare questi interventi che difficilmente riusciremo a fare con il nostro bilancio ordinario. Quindi la conferenza stampa di oggi è anche un monito sia per non perdere la memoria storica ma anche per cercare l'aiuto di tutte le istituzioni che possono in qualche modo dare una mano al Comune di San Giustino per risolvere questi problemi. Anche perché la cooperazione in questi casi è sempre molto importante, c'è bisogno della mano di tutti. Sì, è chiaro, soprattutto un coordinamento delle istituzioni tutte. Qui abbiamo qualche giorno fa ospitato il prefetto di Perugia al quale io ho esposto quali sono le criticità del nostro Comune che non sono solo quello di reperire risorse per far fronte all'emergenza ma un vero e proprio coordinamento che in momenti così difficili le istituzioni si dovrebbero stringere intorno a una comunità che ha avuto un evento di questo genere per cercare di risolvere i problemi e magari cercarlo di farlo insieme, come dire, non fermandosi solo a un apporto burocratico. A livello di bilancio cosa è stato fatto in questi 13 mesi? Insomma abbiamo messo delle importanti risorse se non quelle subito spese, quelle dell'emergenza che ogni Comune deve accantonare il bilancio che cercherà però di fare degli interventi sostanziali sarà il bilancio 2015 e quindi lì abbiamo messo tutta una serie di interventi importanti per la nostra comunità, ovviamente non saranno risolutivi perché come dico con le nostre risorse non è che riusciremo a far fronte e a rimettere a posto tutto quello che è successo il 5 marzo. Diciamo così, quello che è stato rimesso in sicurezza fin da subito però le scuole, la viabilità e tutto questo credo che sia importante da sottolineare. Sì, ecco, infatti la necessità anche di non perdere la memoria storica anche per questo perché quelle poche risorse sono state usate nell'immediato e potendo fare conto tra l'altro solo su quelle per mettere in sicurezza quelli che sono stati i giardini delle scuole, le scuole, le strade perché erano le cose veramente più urgenti da fare e più importanti. Il 5 marzo le scuole ancora erano aperte quindi chiaramente l'intervento è stato veramente dell'emergenza indirizzato verso le scuole che per noi comunque rimangono sempre la priorità assoluta. Prossimi interventi e prossimi anche obiettivi da raggiungere per quello che riguarda le opere pubbliche ma non solo? Sì, i prossimi interventi come vedete saranno la riqualificazione del Parco del Roccolo questa è una foto esemplificativa con l'albero che è caduto sopra il chiostro insomma che è così tanti alberi all'interno del Parco Roccolo quindi per il momento l'abbiamo solo messo in sicurezza dobbiamo ripeantumare e riqualificare questo luogo così importante per la nostra comunità il tetto del Palazzetto dello Sport sarà un intervento da circa 500 mila euro vedete completamente disastrato invece l'intervento sulla scuola pubblica di Selcilama questo l'abbiamo già realizzato quindi il tetto è stato sistemato abbiamo risistemato la scuola e qui vedete anche un'altra immagine di Castello Bufalini la situazione è veramente emblematica di quello che è avvenuto il 5 marzo grazie 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 grazie